Beh, che hai? Niente. Da domani lo giuro mi metto a dieta. Quanto manca la chiusura? Devo andare a prendere i biglietti per te e Patti. Quali biglietti? Quelli per il circo. Ma perché? Non dovevamo andare al cinema? No, ho scelto per il circo. È più speciale. Beh? Che ti è successo? Buongiorno. 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 Volevo delle paste. Sì, quante? Queste qui al cioccolato. Quante ne vuole? Tutte. Ma lei in poche ore cambia così? Sì, no, quel rosso non lo sopportavo proprio. Ah. Poi ho voglia di babà. Sì. Quanti ne vuole? Tutti. E queste qui a cosa sono? Alla crema. Bene, mi di anche queste. Quante ne vuole? Tutte. E alla frutta ne avete? Sì, ce ne sono. Quante ne vuole? Tutte. Poi queste verde cosa sono? Ma... Perché ride? C'è un limite che non si può superare? No, è solo che ne avrà già prese 4 per 20. Quasi un centinaio. Ma va benissimo. Vorrei anche quelle strane sfogliatele lì. Tutte? Tutte. E poi delle caramelle. Delle caramelle a... A limone. Alla liquirizia. Poi se le fanno questo effetto mi di tutto il barattolo. Mi scusi ma... Come fa a portarsi tutte queste cose a casa? Ancora non l'ha capito? Quella con la fragola per ora è la più buona. Io trovo meglio quella lo zabaione. Con la lo zabaione ancora non l'ho assaggiata.